Salve, bentrovati nuovamente in casa Altcom e soprattutto nuovamente per parlare di camere cinematografiche. Parliamo di Sony FX3, una macchina uscita già da ben due anni ma che ha in sé tante potenzialità. Con me c'è Stefano Carzietti, io sono Simone Durante e abbiamo il piacere di presentarti questa macchina in tutte le sue particolarità, se vogliamo, pregi e difetti. Giusto Stefano? Questa macchina, come accennava già Simone, si pone nella linea Cinema Line di Sony ed è la piccolina, la New Entry, ma comunque è una valida macchina, chiamiamola B, oppure per fare, la vedrei per esempio montata su camera car, vicina alle sorelle maggiori, uguali Burano, Venice 2, eccetera. Non a caso, infatti Stefano, la macchina importa i profili cinema proprio delle camere che hai nomenclato da poco. Noi abbiamo voluto realizzare questa review che, così come vi abbiamo abituato con il nostro primo episodio dedicato per esempio alla 6K di casa Blackmagic, sempre full frame, perché parliamo comunque di una equivalente da un punto di vista di sensore, sempre full frame parliamo, abbiamo pensato di portare la camera su campo e cercare di portare a casa dei file e soprattutto dei test. Quando si va su campo, quindi, si hanno le maggiori possibilità di capire meglio un mezzo. Certo, il tempo non ci ha aiutato Stefano, giusto? No, è stato inclemente per noi, però diciamo che abbiamo provato le buone doti di resistenza all'acqua della macchina, comunque. Ah sì, quello sì, sicuramente. Comunque, non è stato certamente facile trovare un posto che fosse un minimo riparato perché la giornata era veramente delle peggiori. Malgrado questo abbiamo comunque fatto qualche test in termini di video e fra poco vedremo le immagini che ci fa piacere mostrarvi e soprattutto abbiamo avuto modo di capire quale fossero i pregi e i difetti. I pregi ne abbiamo trovati tantissimi e abbiamo trovato però alcuni difetti. E come nostra consuetudine, io e Stefano siamo veramente attenti a dirvi quello che è realmente presente su un mezzo in termini di affidabilità, pregi, difetti e tutto quello che ha a che fare con il tecnicismo di questo mezzo. In fondo siamo in un canale di tema tecnico. Stefano, che ti dici se cominciamo a vedere e poi ogni tanto ci intervalliamo, se cominciamo a vedere la nostra review su campo? Andiamo. Ok, partiamo. Allora, siamo oggi qui riuniti per festeggiare la review legata a questa macchina, uscita da un paio d'anni se non sbaglio. Sì, è un paio d'anni. È un paio d'anni, una macchina che entra di diritto nella serie cinema, è una macchina che si differenzia in tante cose rispetto alla serie alfa, anche se eredita un po' quelli che sono i profili, le modalità di lavoro da le sorelle maggiori o minori, insomma, dipende dai punti di vista, e che comunque si dedica appunto al cinema. Già dal fatto che il corpo macchina, come possiamo vedere, è un corpo assolutamente che assomiglia un po' alle macchine cinematografiche, con un corpo, diciamo, in alluminio, robusto e che ha fondamentalmente tutta una serie di plus, quali la ventola di raffreddamento, i pulsanti, attacchi a vite per accessori e quant'altro. L'hai provata più te che io? Bella, bella al tatto, a sentire in mano, maneggevole, solida, cioè si dà proprio l'idea di solidità. Assolutamente. Di metallo, vero. Anche esteticamente devo dire che... Esteticamente gradevole. Io denunciavo un po' il fatto che Sony ha l'abitudine a fare tutte le macchine uguali, beh, in questo caso devo dire che... Ci siamo differenziati e io la trovo per la mia mano ergonomica, a parte qualche appunto che poi... Però, diciamo, la trovo ergonomica e ha tutte le sue cose a posto, cioè i... In particolare tantissimi tasti funzioni e numerati e con... Praticamente mi dicevi, insomma, tu, che normalmente sei abituato a personalizzare le macchine, dici, io ho trovato tutto quello che mi serve già di default. Ho lasciato quasi tutto così, così come era, perché molto probabilmente chi le ha impostate così ha ragionato in maniera razionale. Una cosa che devo dire, insomma, i tasti funzioni sono veramente tantissimi. Uno qui, al di là di quello... Ma sai, l'idea poi di numerarli, non è stupida. No, no, certo. Perché poi dopo è difficile, perché le altre macchine devi associare la posizione, più o meno, ma a questo invece c'è il numerello sopra scritto. Ma cosa stupido? Vediamo le differenze rispetto ai modelli alfa. Innanzitutto la mancanza della classica di era... Per la selezione dei modi di funzionamento. Al di là di quello, un tasto evidente di menu e un joystick di accensione e spegnimento, sicuramente, che non siamo abituati ad avere in questa posizione. Altre cose che mi vanno chiaramente all'occhio è il tasto di record. A proposito dello stesso, devo dire, è un po' scomodo. Un po' scomodo. Perché ci possa arrivare con il pollice, però non è proprio il massimo. C'è da dire che è replicato qui davanti. Ah, ok. Un altro davanti, ma... Sì, di certo non c'è difficoltà a raggiungere il fuoco. Puoi eventualmente sempre programmare e usare il tasto di scatto. E continuo a pensare che questi produttori, non capisco perché devono non pensare che il tasto di record possa essere quello frontale. Cioè, alla fine è giusto metterlo lì. Ma comunque, vabbè, al di là di quello, altra cosa eclatante che un po' hanno denunciato tutti, questo joystick inutilizzabile da tutti i punti di vista. Mi costringe a far assumere al Dio delle... Oppure, c'erano due scuole di pensiero, pollice o indice. Sì, fondamentalmente è impossibile con l'indice. Poi non si spiega perché, comunque spazio ce ne sarebbe stato per metterlo là dove normalmente viene messo. Vabbè, diciamo, il joystick sicuramente non è il successo di questa macchina, che tra l'altro diventa anche esso un tasto funzione, volendo. La cosa interessantissima è vedere questi attacchi a vite numerosi, uno, due, tre, quattro, cinque, con quello sotto, sei. Quindi, insomma, veramente sei attacchi a vite che permettono per assurdo di non avere il rig. E, ultima cosa da sottolineare, la mancanza del viewfinder, comunque dell'oculare, che purtroppo è vero, è una macchina da cinema, ci può stare nella scelta del produttore che dice, in fondo questa è una camera da cinema, cioè ci metti... È pacifico che ci devi mettere un qualcosa di esterno e il monitor diventa un monitor di setup. Sempre per quello che riguarda ingressi e uscite abbiamo un HDMI, chiaramente di tipo standard, di tipo A, nonché abbiamo due porte USB, di cui una C, l'altra micro, di tipo micro. Quella C è quella più versatile, perché permette anche poi l'alimentazione e la carica della macchina. Attacco chiaramente micro jack da tre e mezzo, cuffie e registrazione, ma chiaramente la registrazione la deleghiamo a quella che è la maniglia, che è uno strumento molto particolare, molto... a primo impatto un po' ingombrante, però devo dire, poi io un pochino l'ho studiato e poi magari vedremo qualche particolare. Ebbene, tornati in studio, Stefano, insomma, abbiamo cominciato a vedere qualche immagine. La prima cosa di cui vorrei parlare qui in studio con te, che abbiamo affrontato poco, diciamo, mentre che eravamo lì al Lago di Castello, è il tema menu. Sicuramente Sony ha migliorato questo aspetto e volevo sapere un po' il tuo giudizio. Noi abbiamo parlato appunto di menu e di quello che avremmo voluto vedere sulle camere. Diciamo che in parte Sony comincia a pensare a quel... ci ha sentito... Ci ha ascoltato. Chiaramente è scherzo. Però, insomma, ci sono tre modalità che permettono appunto di muoversi meglio all'interno dei menu di Sony, giusto? Allora, Sony ha sempre avuto qualche problemino con i suoi menu. Sono sempre stati considerati un poco razionali, un po' confusionari rispetto ad altri brand. E invece questa volta devo dire che su questa macchina ha fatto un buon lavoro. Ha previsto sostanzialmente, a parte diciamo la struttura tipica dei menu Sony, ha previsto due pagine di menu rapido. Che è una cosa che noi da tempo auspicavamo, no? Cioè quello di poter avere un menu che avesse solo le funzioni quelle rapide, quelle che mi servono subito per lavorare. Senza andarmi a perdere in settaggi strani, cosettine particolari che magari se posso regolare una volta in una vita, no? Secondo te ci sono le funzioni che veramente servono o hai trovato qualcosa che può essere inutile? No, io direi che più o meno sono tutte le funzioni che occorrono, che servono. Non è customizzabile questo menu, quindi prenderlo o lasciare è fisso, non posso andare a modificarlo. Però devo dire che ha un senso, ha un senso razionale. Mi trovo tutto quello che mi serve. Ovviamente è distinto per quanto riguarda le funzioni video o le funzioni fotografiche. Cioè cambia aspetto questo menu, cambiano le voci di menu interne. A questo ovviamente troviamo il solito sistema dei preferiti. Quello che siamo abituati a trovare su tutte le macchine. Sì, esatto, basato su diverse pagine dove io posso andarmi a creare un mio menu personalizzato. E inoltre, pure l'ho trovato molto comodo, ma questo comunque non è una novità perché lo troviamo anche in altri brand, è chiamato Quick Menu o cose del genere. Qui in questo caso si attiva tramite il tasto FN Function. E poi vedete mi appare una doppia riga di comandi sotto, allo schermo. E questo invece, diversamente da quello rapido, è customizzabile. Cioè posso andarmi a settare quello che mi piace di più. Sì, io ho avuto Sony per diversi anni, quindi conosco bene questo menu. E devo dire che è sempre stato veramente interessante perché lì veramente puoi mettere su due righe, se non ricordo quante voci sono, mi sembra 4-5 per riga. E quindi hai sicuramente la possibilità di impostare quelle che sono le cose principali. Lo puoi richiamare o tramite l'apposito tasto, pulsantino, oppure facendo scorrere il dito dal basso verso l'alto e quindi tirandolo su, sullo schermo. Non di meno, chiaramente tutto quello che abbiamo detto in merito ai tasti di funzione. La cosa che sicuramente è sempre importante di Sony, in particolare su questa macchina, è l'autofocus. Un autofocus, devo dire che io ho avuto modo di lavorare con questa macchina su red carpet di diversi film in uscita e sai, su red carpet di norma hai quella classica situazione in cui il personaggio sta lontanissimo, poi si avvicina, ci sono tantissime persone che ti passano... Le più piccoli situazioni, un bel banco di testa. Avevo proprio il 70-200 e praticamente poteva capitare in continuazione che mi passassero davanti persone, eccetera. Beh, la macchina, devo dire che è impressionante, quando aggancia un soggetto non lo lascia neanche a morire, insomma. Quindi da questo punto di vista quasi è inutile parlarne, ormai Sony è secondo me il leader in termini di autofocus e rimane invariato il mio pensiero in tal senso. Altra cosa interessante e particolare che tu mi dicevi, insomma, è questa cosa del... Quando si lavora in modalità log, a proposito del log, abbiamo solo due log che sono... Mi dicevi, insomma... Il S-Log 3 normale e il S-Log 3 di bocine. Ok. È stato tolto di nanzi il... Il vecchio S-Log 2, che nelle sorelle minori, molto minori, diciamo che era forse l'unico modo per poter girare con questa macchina, con questa, in modalità log, perché, diciamo, il 3 era veramente rumorosissimo. Come invece ti è sembrato il log di questa macchina? Intanto, anzi, facciamo qualche test in tal senso. Come ti è sembrato? Devo dire che ha un bel aspetto, ha un aspetto veramente cinematografico, sfrutta bene la gamma dinamica che offre questa macchina. A proposito di questa, so che quando giri in log c'è una particolare situazione riguardo agli alti ISO, o alla modalità ISO. È stato introdotto un dispositivo che normalmente troviamo su macchine di un certo livello, ma non per niente lei appartiene alla serie cinema. Come si chiama? Questo sistema si chiama CineEI. CineEI? CineEI. Alla esposizione, prendiamolo così, è un ausilio, quindi a beneficio di un direttore di fotografia, perché permette di avere, quando ho inserito, il feedback di quello che stiamo, che poi avremo come risultato finale nella post-produzione ultimata. Esatto, di fatto la macchina quando va in quella funzione lì, sono CineEI, normale CineEI, Quick, la macchina si imposta solamente su due valori di ISO, o l'800 o il 12.800, che sono i valori di ISO nativi dei due strati di ISO, perché si parte dall'assunto che tutte le macchine all'ISO nativo danno il meglio di sé in termini di gamma dinamica. Ok? Quindi, la macchina poi mi permetterà, tramite un sistema particolare, di poter avere un feedback di quello che mi succederà quando io poi vado in post-produzione, e quindi vado a incrementare un pochino o a diminuire un pochettino. Ok? Però, quando la macchina lavora in questa modalità qui, è basata solamente su questi due valori di ISO. Ovvio che potrei fare la stessa cosa anche io dicendo, voglio lavorare solo a 800 o solo a 12.600, però me lo dovrei imporre. Ho capito. Invece, questo è un sistema un po' automatico. Questa cosa dei due valori, a 800 o 12.000, cioè fondamentalmente li sceglie lei? No, hai due modi per poterli scegliere. Allora, la modalità normale, sei tu che li devi scegliere. Ok. Scegli la base, o 800 o 12.800. Nella versione Quick, invece, è la macchina che a un certo punto, quando sente che tu stai salendo con l'indice di disposizione, la macchina commuta sull'altro. È un po' come avviene anche su altri marchi, dove hai la possibilità di mettere l'auto oppure a high or low, e per scegliere quindi quale dei due. Qui, però di fatto, il file viene registrato solamente, sempre alla stessa sensibilità ISO. Ho capito. Qualcuno dice che è un po' come tornare indietro e montare una pellicola su una macchina analogica. Cioè, io già sceglievo a priori che tipo di pellicola dovevo utilizzare, in base alla cosa. Ovvio che a quel punto, però, dovrai lavorare soprattutto di zebra, che è fondamentalmente la mia. Che viene addirittura dedicato un tasto. Un tasto, un tasto, funzione. E io mi chiedo, ma perché? Perché la zebra, poi, noi lo usiamo, almeno personalmente, noi la usiamo poco, no? Come ausilio all'esposizione. E invece qui ha importanza, perché l'esposizione andrà fatta con l'ausilio della zebra e, possibilmente, di cartoncino grigio al 18%. Vabbè, si entra un po'... Entriamo nel mondo della fotografia, della fotografia professionale, no? Diciamo che questo è un mondo che io difficilmente sopporto. Non era negante questa cosa. No, ecco, infatti. Però, a quel punto, noi ricordiamo alla registrazione di Bolog, utilizzando il classico ISO, qui lo chiama ISO flessibile, ma non è nient'altro che la possibilità di cambiare. Sei stato più che esaustivo, ti ringrazio per questo approfondimento. Altre cose particolari che mi dicevi dopo la tua, insomma, approfondimento della camera. Per quanto riguarda la possibilità, cioè, di caricare le LAT in camera. E mi dicevi di una particolarità, no? Del fatto che, quando si dovesse, diciamo, scegliere di girare direttamente con la colorazione finale della LUT in camera, e quindi volessimo avere il file finito, mi dicevi che la LAT non viene scritta in termini di file. No, noi siamo abituati che, quando chiediamo l'immissione, l'incorporamento della LAT nel file, a quel punto quel file là viene marcato e viene registrato con quella LAT, prenderlo o lasciare. Qui invece avviene una cosa particolare, io chiedo di inserire la LAT, ma la LAT viene inserita effettivamente sui metadati del file. Quindi però il file viene registrato sempre senza LAT, quindi pulito. In realtà è solamente inserire, praticamente, un'indicazione di quale LAT è stato utilizzato. Esatto, quindi poi un post-produzione tramite l'utilizzo dei metadati, so, quel momento io ho girato utilizzando questa LAT qui perché avevo quella visione lì e mi piaceva. E quindi io, tendenzialmente, potrei scegliere di impostare quella LAT, impostare quella LAT oppure infischiarmene e impostare qualsiasi altra cosa. Altra particolarità che ho notato e che devo dire questa è un po' veramente, come posso dire, da approfondire se vogliamo e cercare di capire. Abbiamo notato che in modalità Full HD la macchina croppa, praticamente croppa di, adesso non sappiamo descrivervi di quanto, ma insomma c'è circa un, non lo so, un 1 per... A me a occhio sembra quasi che andiamo sui valori dell'APS-C. Quindi c'è un crop che quando si passa in Full HD, differentemente da quello che siamo abituati a pensare, cioè una macchina normalmente croppa quando si va a chiedere più risoluzione o maggiori frame per secondo, di cui parleremo fra poco. Qui abbiamo questo scatto di crop in Full HD e dobbiamo capire un po' perché. Magari se hai possibilità in studio di fare qualche prova, fare qualche prova più scientifica, sicuramente. A proposito invece di frame per secondo, la macchina offre tanta roba perché siamo abituati a, con questo modello, ad avere fino a, in modalità NTSC, ad avere fino a 120 frame per secondo. A 4K. In 4K senza crop. Senza crop. Senza crop. Quindi tantissima roba e soprattutto se considerando poi il fatto che siamo a 10 bit per l'ore. E qui in modalità a pallo ovviamente scendiamo a 100, ok? Ok. E addirittura in Full HD possiamo raggiungere i 240 fotogrammi per secondo. Comunque, velocissimamente, e io so che ti sei preparato la tua solita lista, ti chiederei di non essere prolisso, insomma di cercare che chiaramente non vogliamo annoiare, però di darci un po' una panoramica di quelle che sono le risoluzioni, diciamo, senza slow motion. E quelle in slow motion. Chiaramente mettiamo anche le tabelle e così le vediamo a monitor, però insomma ecco, velocissimamente, quale sono le potenzialità? Abbiamo due tipi di codec, fondamentalmente, il Long Hop e il All Intra. A loro volta si suddividono poi in altri formati. Partiamo da quello più performante che è il XAVC HS4K. Poi abbiamo la versione XAVC S4K che è un pochino più ridotto e poi abbiamo, sempre nella famiglia dell'HVC S, abbiamo il Full HD. Poi abbiamo la parte che riguardante gli All Intra e qui abbiamo la XAVC S4K di tipo I, XAVC S IHD e poi un formato un pochino particolare che è il 4K DCI che utilizza il codec XAVC S All Intra. Ho questo DCI nel senso che praticamente il formato stesso nasce già con limitato, con le bande nere sopra e sotto. Ti posso chiedere velocissimamente, lo stiamo vedendo anche sulle tabelle, però insomma vediamo il numero di megabit per secondo che sono un numero secondo me interessante perché la qualità non si fonda esclusivamente sulla risoluzione ma soprattutto sul numero di megabit per secondo. Allora per quanto riguarda le modalità normali di ripresa andiamo da un minimo di 100 Mbps per quanto riguarda il Full HD XAVC S fino a un massimo di 600 Mbps dell'XAVC S1 4K. Per quanto riguarda invece il mondo S in Q, quindi lo slow motion, partiamo da un 500 Mbps dell'XAVC HS4K fino a raggiungere i 1200 Mbps XAVC S I4K. Questo ovviamente perché è una peculiarità proprio dell'olintra che praticamente codifica fotogramma per fotogramma e quindi ovviamente stiamo parlando di una mole di dati ben superiori a quello che è il mondo. Certamente c'è bisogno di una forza lavoro importante poi in post-produzione che per fortuna Sony appunto realizza i proxy internamente. Ah sì, certamente. Quindi insomma andiamo certamente ad essere agevolati nel momento in cui andiamo in post-produzione. Tra le altre cose ricordiamo proxy in due qualità differenze. Sì, abbiamo due risoluzioni per quanto riguarda i proxy. Abbiamo l'XAVC HS di tipo HD 1920x1080 e poi abbiamo l'XAVC CS HD 1280x720. Questo si può selezionare uguale dei due. Quindi diciamo assolutamente, assolutamente. Io reputo comunque il numero di Mbps per una camera che fa cinema assolutamente allineati. Cioè ti posso garantire che ci sono macchine che vanno anche oltre e che veramente esagerano. Detto ciò comunque certamente la forza lavoro da parte del computer sarà importante. Per questo motivo credo sempre al fatto che un RAW fondamentalmente nativo come quello per esempio di casa Blackmagic sia quanto di veramente più geniale che è stato fatto fino ad oggi. Cioè un RAW leggero e fruibile da software di conversione insomma che facilmente riesce a gestire anche pesi molto più importanti e che sarebbero veramente proibitivi in un RAW normale. Come quello che invece fa questa camera che dall'HDMI è in grado di appunto passare un file da ben 16 bit di gamma dinamica. Quindi insomma tanta 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 roba. Che lo accumulano alla linea cinema proprio le sorelle maggiori che lavorano in 16 bit. Tra le altre cose da tenere in considerazione appunto è la dimensione dei file in termini di scrittura. Perché un peso del genere chiaramente necessita di una scheda come si dice pennello grande, parete grande, pennello grande. Capiente ma non solo capiente anche performante in termini di scambio di dati. Perché ovviamente quando chiediamo di attuare un trasferente di 1200 Mbps qui dobbiamo andare sulle CFA Express TVA di cui la macchina è dotata di slot. O se vogliamo in alternativa sulle SD dobbiamo comunque ricorrere alle V90. A questo punto nasce spontanea la domanda. Non so se hai approfondito questo tema. C'è la possibilità di registrare in esterno con hard disk? No, a quanto pare no, nonostante la macchina sia dotata di ben due porte USB, una di tipo C e una di tipo micro, non ha questa funzione qua. L'unica registrazione esterna è quella tramite HDMI, quella che già hai citato. Questo a mio avviso è un lato abbastanza negativo perché mi aspettavo un bel sì, sono sincero. Soprattutto perché moli di dati di questo genere necessitano inevitabilmente, e se consideriamo che ormai questo prassi è addirittura utilizzato sull'iPhone, insomma, non capisco per quale motivo un produttore di una macchina cinematografica non possa pensare a un hard disk come fonte di immagazzinamento dati, che tra le altre cose sarebbe molto più comoda anche per la post-convenzione. Esattamente. C'è questa piccolezza insomma del monitor, ma al di là di quello la domanda che ci facciamo è perché se la macchina è praticamente una videocamera, quindi una camera da ripresa video, per quale motivo abbiamo un rapporto d'aspetto in tre mezzi? Cioè ci sembra veramente... Perché adesso magari non si nota, ma abbiamo un sacco di spazio sprecato, una cornice intorno che è così persa. Inutile, completamente inutile, oltretutto su una dimensione da tre e mezzo, cioè da tre pollici, insomma veramente pochissima roba. Piccola nomenclatura su quelli che sono alti ISO, lascerei le parole a un test che il buon Stefano ha fatto, così andiamo a vedere come se la cava. Piccola nomenclatura su quelli che sono alti, così andiamo a vedere come se la cava. Stefano, per quanto riguarda batteria, come ce la capiamo? Noi riteniamo che comunque l'autonomia sia buona, cioè discreta, in linea con quello che sono i consumi... Con quello che è il valore, considerando che è una macchina che comunque non avendo un suo mirino ti costringe sempre all'uso dello schermo, quindi ha una ventola in dotazione, peraltro silenziosissima, non si sente. Però sono tutte cose che caricano un pochino il consumo, però devo dire che non ci ha dato grosse problematiche durante la nostra sessione. No, tra le altre cose, una cosa da nomenclare è il fatto che la batteria è lo standard Sony, che sta anche sulla 7.4, la 7S3, quindi chi ha un modello B di camera, sempre Sony, non deve ricomprare le batterie. Questa è una buona cosa sicuramente da parte dei produttori, non doverci costringere ogni volta a ricomprare le batterie, nonché le schede. Stefano, ti faccio anche un piccolo test legato ai profili colore, qui abbiamo una casetta, un po' di verde, un po' di colore, così facciamo vedere come se la cava in tal senso. Teniamo in considerazione che Sony è da sempre abituato con i profili colore, in questo caso abbiamo diverse soluzioni preimpostate, ma che chiaramente possiamo personalizzare. Vediamo come se la cava. Allora Stefano, l'ultima cosa da sicuramente sottolineare è la maniglia, la maniglia di cui tu, abbiamo detto, farai un grande lavoro. Tutti si chiederanno, ma che c'avrà questa maniglia, è una maniglia, un pezzo di ferro, no, non è un pezzo di ferro, eccola qua, ve la mostro così, ma poi dopo magari. Ma già solo per il fatto che quando la monti ci puoi attaccare ulteriori cose e ti eviti di comprare il rig, insomma. È ben integrata, è bella solida, si attacca bene, insomma è un bello oggettino. Il prezzo di questo oggetto? Stiamo facendo intorno ai 400 euro, certo è un po' tantino, però consideriamo che questa qua ti permetterebbe di utilizzare tutti e quattro i canali di registrazione della macchina e magari volendo in certe situazioni fare a meno di registratori esterni. Certo, un registratore esterno comunque ti dà la possibilità di scollegare il record della macchina, però voglio dire, da un punto di vista di integrazione, immaginiamo, io faccio tantissimi documentari, immagino l'idea di avere un accessorio professionale sulla camera, in digitale, mi porta dentro l'audio bilanciato. Soprattutto è possibile, aggiunge tantissime regolazioni, cosa che non trovi normalmente nella macchina, all'interno della macchina e questo ti permette di inserire degli attenuatori, di fornire... Va bene, non ci scorrere troppo, ti chiederei di fare un bel contributo, detto questo andiamo in chiusura. Siamo giunti alla fine di questa nostra seconda review, secondo intervento su questo canale che riteniamo veramente interessante per quanti siano alla ricerca di informazioni utili e soprattutto professionali in ambito videomaking e quale macchina migliore se non l'FX3 che abbiamo trattato oggi, sicuramente merita assolutamente un nostro attento giudizio. E a proposito di giudizio ti chiedo, Stefano, che cosa ne pensi? La compreresti? Come farai adesso che te ne dovrai separare? Non mi ricordare queste cose, sai che per me quando è il momento di impacchettare e rimandare indietro le cose, per me è un momento molto triste. Voi dovete sapere che lui ha 5-6 macchine, ma collezionerebbe invece che Franco Bolli macchine fotografica, macchine per fare video. Detto questo, la macchina se l'è cavata assolutamente bene, io e Stefano abbiamo pensato che soprattutto al prezzo a cui viene venduta, diciamo che è assolutamente allineata. Il prezzo non è un prezzo da giocare, ma non è neanche un prezzo limitativo. Se pensate che la C70, che secondo me è il modello che più si avvicina a questa FX3, seppur superandola in alcuni sensi, però comunque è una macchina che costa all'incirca 1000 euro di meno. Se tu dovessi pensare ad altre macchine di questa fascia, quali marchi ti vengono in mente e pensi che ce ne siano paragonabili in termini di prezzo e di caratteristiche? Sì, io vedo qualche cosa in casa Canon, tu prima hai citato la C70, ma esiste la sorella minore che è la R5C, C sta per cinema, che ha discrete doti cinematografiche, video. È un bel oggetto, secondo me c'è una bella gara riguardo a questo. Anche se lì pure siamo su un prezzo leggermente superiore, come abitudine di Canon, che comunque punta un po' più sul prezzo. Purtroppo lì in quel caso abbiamo la mancanza dello stabilizzatore, però vabbè, diciamo che... Vabbè, ne parleremo meglio non a caso in una prossima review sempre su questo canale. A sottolineare l'aspetto cinematografico di questa macchina qua, vorrei farti notare Simone che la macchina è inserita nella white list di Netflix. Quella certificazione che Netflix richiede per inserirsi nella produzione della piattaforma. Questo è stato ottenuto ultimamente grazie all'aggiornamento firmware 2.0, che è stato anche chiamato aggiornamento Netflix, perché ha introdotto il time code nella macchina, cosa che prima non era disponibile, se non esternamente. Questo è interessante, sicuramente il fatto che le camere possono essere upgradate al fine di entrare in questa lista, che lascia il tempo che trova, perché non è che cambi la qualità del prodotto che generano. Però diciamo che sicuramente è stata una mossa azzardata in termini di marketing da parte di Sony, perché comunque far parte di questa lista è comunque un fiore all'occhiello. Detto ciò, ragazzi, noi siamo contenti di avervi portato questo nuovo contributo e a breve parleremo anche di altre camere, quindi rimanete sintonizzati. Se volete fare domande, siamo a vostra disposizione, lo staff è a vostra disposizione. Mi raccomando, segnatevi al canale, lasciate un bel mi piace, spuntate la campanellina, perché solo così potrete rimanere aggiornati su quelli che sono i contributi video realizzati su questo canale da Adcom. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo contributo. Ciao ciao!